Importante convegno al Cinema e Celsior sulla sicurezza alimentare, ne parliamo con il dottor Carraturo. Un convegno che serve tanto alla crescita della nostra isola. Sì, è un convegno che abbiamo voluto fortemente insieme a Nino Di Costanzo e al presidente di Federalberghi, Armando Mannella, anche in considerazione del fatto che a memoria non si ricorda una riunione di tanti operatori della ristorazione dell'isola. Per me è stata una grande gioia metterli tutti insieme, quindi far capire che Ischia non è solo termalismo, ma si basa molto anche su quella che è la giusta e la corretta ristorazione. Possiamo dire che la conoscenza può servire a dare un prodotto migliore ed essere anche competitivi con gli altri territori? Indubbiamente il leitmotiv del convegno è la cultura, cioè dare formazione per fare in modo che tutte quelle che sono le procedure operative vengano messe in atto nel migliore dei modi. Il convegno di oggi è organizzato benissimo, grande la risposta. Il convegno di oggi è organizzato benissimo, questo sa significare che la sanità non è solo ospedale. Per il convegno io devo ringraziare il dottore Carratura e il dottore Castiglione che veramente hanno una sensibilità particolare. Fare buone ingiene, fare prevenzione, dare la possibilità a tutti i ristoratori di presentarsi in migliore dei modi è la migliore, secondo me, proposta che un dipartimento di prevenzione come quello diretto dal dottore Bianco possa fare e grazie ai suoi uomini su Isola lo fanno egregiamente. Un evento sicuramente molto importante e che comunque può sicuramente dare un valore aggiunto a tutti quanti noi. Sono convinto che la nostra crescita deve passare attraverso questi incontri e l'ASL sotto questo aspetto ci ha aiutato. Un ASL che non deve essere solamente penalizzante ma deve dare anche crescita a tutti. Il cambio di direzione c'è stato, l'ASL sono anni che aiuta, accompagna l'imprenditore ad aprire l'impresa e quindi la repressione, e lo hanno anche detto in questa sede, è l'ultimo mezzo perché poi sarebbe anche un fallimento loro e lo hanno detto senza problemi anche tutti i dirigenti dell'ASL.